Come è andata la gara in Argentina? La gara bene, ma prima c'è stata un'ennesima figuraccia di Dorna. Potete leggere due articoli interessanti, guardare una live con Luca Bologna, in cui viene spiegato come agli appassionati si sono state raccontate delle balle totali con la compiacenza, tanto per cambiare, della stampa accreditata, che ormai se la fa letteralmente in mano, per non dispiacere il donatore di accredito alla MotoGP. In sintesi, hanno fatto passare come una grande operazione di recupero una grossa mancanza di pianificazione. Il link alla live è nella descrizione qui sotto. Se vi piace tutto questo, scoprite sempre nella descrizione qui sotto come potete supportare Mr. Helmet con lo shop o gli altri sistemi. Ma ora parliamo della gara che è meglio, molto meglio. A Termasterio Hondo si è fatta la storia. Aprilia, dopo una cinquantina di titoli mondiali, ma tanta fatica nella classe regina, ha vinto la prima gara in MotoGP. E non l'ha vinta con Vignales, l'uomo chiamato a compiere il passo finale, bensì con Aleix e Spargerò, il che è giusto e sembra il lieto fine di un film. Un film che però non sembra ancora finito, dato che, e questa è una mia impressione, Aprilia è sempre più forte e Vignales e sembra anche lui in crescita. Come andrà non si sa, ma di fatto la situazione sembra aver piazzato Aprilia fra le grandi, o perlomeno questo è quello che tutti speriamo. Quindi per la gara, vinta da Aleix e Spargerò davanti a Martin e Riz, è il momento delle pagelle. Allora, partiamo subito da chi sta messo male. A Yamaha come voto do tre. Do Vizioso ha un nuovo problema, questa volta all'abbassatore. Anche se a me sembra, sarò anche malizioso, uno che si ritira perché in un giro è già in un ritardo mostruoso. Ad ogni modo, poi va bene, è rientrato timidamente, ma insomma ormai la fotografia della gara era fatta. Ad ogni modo, durante il weekend ristretto, Do Vizioso fa malissimo. Voto due, anche perché Darren Binder gli arriva due posizioni davanti. Chi avrebbe scommesso su Darren Binder meglio di Do Vizioso? Imbarazzante anche a Morbidelli. Ok, buca una gomma, ma parte diciassettesimo. Di che parliamo? Per me, Morbidelli, voto quattro. Binder arriva diciottesimo. Voto cinque e mezzo per la sua ruchitudine. E Quartararo è invece ottavo. Sembra l'unico a metterci qualcosa di suo. Ma veramente si parla di sostituirlo con Razgatlioglu. A me sembra una fesseria. Io, a Quartararo, per l'impegno che ci mette, nonostante la situazione di debacle tecnica che Yamaha vive, do un bel sei e mezzo e lo salvo. Ma, andando avanti, c'è qualcosa peggio di Yamaha? Sì, sì, c'è Onda. Onda, voto due, perché per me Onda è pericolosa. A Bradle, diciannovesimo, gli do cinque perché è un sostituto. Mentre a Nakagami, dodicesimo, do sei. Nonostante le qualifiche da semiprotagonista e la gara un po' no, perché, insomma, è arrivato last minute con una situazione di simil covid, di fastidio. Insomma, non è facile calarsi in una situazione di quel tipo. Una via di mezzo fra loro due è Alex Marquez. Cinque anche a lui, che arriva a quindicesimo. Però, si deve svegliare Marquez. Non gli do molto altro tempo. Parlo di Alex. E invece, Paul Espargaro, per terra. Dopo aver detto che si era cucito la moto addosso lui, abbiamo visto quello che abbiamo visto. Un'altra gara alla Espargaro, di quando non va male. Per me, voto quattro. Continuando a parlare di chi soffre, mi viene in mente KTM, che però non è vero che soffre. E adesso vi spiego perché. Le Tech Troyes sono ormai le RNF austriache, le ex Petronas, per intenderci. È chiaro che non andranno mai. Mi sembra evidente. Sono sicuro che Poncharal, il team manager di Tech Troyes, sta rivedendo il film che per anni ha visto con Yamaha. Raoul Fernandes, questa volta non sbaglio il nome, e Remy Gardner fanno sedicesimo e diciassettesimo. Voto 5 entrambi, in quanto newbie. Per quanto riguarda Oliveira, in Argentina è irriconoscibile, per essere uno che vince le gare, chiaramente. Voto per Oliveira, 4,5. Mentre invece Binder, Brad Binder, solo lui, dimostra che non è la KTM che non va, ma che è chi la guida che non la capisce. Oppure Brad Binder è un mago, che è possibile anche questo. Un sesto posto è oro. E io a Brad Binder do 7, perché è solo in KTM a fare le cose che funzionano sempre. E poi zitto, zitto, Brad Binder è secondo in campionato. Attenzione. E quindi Suzuki. Dicono che non brilla, che è bellissima, bella ma non balla, che non va, che non eccelle niente. Eppure, a me sembra la moto più equilibrata dell'8, con cui vanno forti due piloti su due. Ricordiamoci che Suzuki non ha nemmeno riferimenti dai clienti. A Mir, giù dal podio, do 7,5. A Rins, sul podio, do 8,5. Rins è terzo in campionato a pari merito con Bastianini. Mir è quinto, ma con solo tre punti in meno. Io non scherzerei tanto con le Suzuki. E adesso, a parte più faticosa, Ducati con la sua flotta aziendale. Per me Ducati come casa vale 5. Come ho già detto in occasione del post-gara di Mandalica, tutto quello che viene fuori di buono da Ducati, viene fuori dai clienti, che oltre a fare del bene a Ducati, pagano anche. E cominciamo. Tim Gresini, Fabio Di San Antonio, gara nelle retrovie e poi crash. Per me, 4,5. Messaggio per Fabio. A Fabie, stai tranquillo, prenditi il tuo tempo per capire una cosa per te nuova. Non tutti hanno gli stessi tempi di maturazione. Siamo tutti frutti diversi. Bastianini, invece, sempre parlando di Tim Gresini, qualifiche no e gara così così. Si vedeva del nervosismo, probabilmente legato anche a motivi logistici, non lo so, però conta il risultato. Alla fine salva il weekend e finisce davanti a Marini, che è il suo riferimento. Invece Marini è partito in prima fila. Il voto per Bastianini è 6. Io gli avevo detto di fare screenshot per immoltarare la sua leadership in classifica. Adesso è terzo in condominio con Rins. Serve un altro screenshot. Se non è sempre attento, 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 attentissimo, le cose potrebbero anche precipitare. Per quanto riguarda i VR46, invece, c'è sorpresa e delusione. Allora, la sua posizione al Via, che gli farebbe guadagnare un voto altissimo, non ha niente a che fare con la sua gara. Parlo di Marini, che fa purtroppo la gara del gambero. Bravissimo, partire terzo, così, ma chiudere undicesimo. Cioè, ok farsi passare da Bastianini, che ormai è un'abitudine, ma da Bezzecchi, partito 14 posizioni dietro, per Marini, per la controrimonta, voto, 4 e mezzo. Ovviamente la TV parla sempre delle controrimonte, dei peggioramenti degli altri. Questa volta no. Strano. Per quanto riguarda Bezzecchi, invece, un'altra sorpresa da parte sua. Per come guida e per come ci crede, per me, voto 6 e mezzo. E il dolce amaro ce l'abbiamo, invece, con Pramac. Zarco, voto 2, perché non ci si può stendere così gratis. Non si può andare fortissimo e poi bruciare come un fiammifero. Per Martini, invece, voto 9. Fa un garone, sembra che possa anche vincerlo. Martini è sempre protagonista, piace a tutti perché dà tutto. In un modo o nell'altro lui c'è sempre, fa sempre, diciamo, quel casino. Oggi lì manca la vittoria, ma soltanto perché è la giornata aprilia. Perché altrimenti avrebbe, diciamo così, di giustezza vinto lui. Per quanto riguarda le Ducati Rosse, subito un 4 a Miller, addormentato nel bosco. Ormai anche il suo box ne parlano con il distacco di uno che non viene compreso, di uno che è fuori per lavoro, che non fa veramente parte della famiglia. Ah sì, Miller, saprà lui. Eppure c'è chi in classifica sta ancora peggio di Miller. E parliamo di Bagnaia. Per cui la TV fa le acrobazie vocali cercando di dipingere questo posto, questo quinto posto, come un successione. È vero che Bagnaia parte dietro. E quindi si parla di rimonta. Ma non va proprio bene che Pecco, da candidato al mondiale, si trovi tutte le volte a qualificarsi così male e a gareggiare per la sopravvivenza. Eh, ma se partisse davanti, se io avessi 15 palle, sarei un biliardo a cui manca una stecca. Una sola, però. Se fai una rimonta, ma sei uno che sarebbe dovuto partire davanti, occhio che hai fatto solo metà del lavoro. Bagnaia in classifica è quattordicesimo, con un punto in più di Marquez, che è però part time. Si deve svegliare. Per oggi voto 5 a Bagnaia. E adesso i cavalieri neri, a cui non gli devi cacarcazzo, come dicono a Roma. Aprilia, come casa, voto 7 e mezzo. Come così poco? Perché? Adesso che il risultato è arrivato, lo deve confermare, senza le concessioni. Ce la farà? Vediamo. Mentre prima il voto era di incoraggiamento, sempre quando si parlava di Aprilia, come i bambini che fanno fatica. Adesso il voto è solido. È un 7 e mezzo vero, non un 7 e mezzo di investimento. Quindi non è poco. Per quanto riguarda Vignales, sembra strano, ma io vedo progressi concreti. Per me il trend è interessante e la gara di Vignales è da 7. In classifica poi ha più punti di Bagnaia. Lo so, sto girando il coltello nella piaga, però a Vignales non viene chiesto di vincere il Mondiale. E adesso, insomma, The King, insomma, no? Colui che sfonda la porta della storia col pisello. Alecce Spargarò, in un colpo solo, fa Paul, giro veloce, prima vittoria per sé e prima vittoria per Aprilia. Gli dovrei dare 11, ma non glielo do perché c'è un però. Da oggi in poi, se vuole entrare nel circolo ristrettissimo dei top rider, si deve confermare. Quindi Alecce Spargarò, voto 10. E adesso due argomenti mediatici, non so se ve ne siete accorti, ma il motociclismo si fa, e viene benino, anche senza Valentino Rossi. È bello lo stesso, non serve imporre questo santino televisivo da nostalgici. Lui non c'è, quando c'era lui, chissà cosa sta facendo lui, lui ci guarda, lui ci ascolta. Ma il culmine si è raggiunto quando hanno detto si segnala la mancanza di Marquez e di Rossi. Ma allora anche di Crevillet, Kenny Roberts e Agostini, dai patetici. Ma Marquez si segnala la mancanza perché Marquez ci dovrebbe essere. Valentino si è ritirato. Che cazzo di mancanza segnali? Per non parlare del fatto che le pagine di MotoGP sono tappezzate di post di una categoria di auto che sarà anche bellissima, ma vedrete che non attirerà mai tutti gli spettatori che guardavano le moto per Valentino. Avete coltivato bimbi minchia e quelli raccogliete. E adesso che sperate che si succhino tre ore di macchine che girano senza capire un cazzo, se poi ci si mettono anche i vostri opinionisti in studio a dire che è una cagata, proprio in faccia rossi, guardate, se è per questo che lo avete comprato e pensavate di fare ascolti, ve lo dico io, che col campionato GT avete buttato i soldi. Non andrà come pensate voi. Oh, per il resto il voto alla TV, datelo voi. E comunque alla prossima. E forza, forza a chi volete voi. A me non me frega niente. Ciao da Mr. Helmet. Grazie a tutti.